A Torino il Milan ha ceduto anche Sloan, non buon peso, peso buono. Moro, abbiamo già capito, indosserà una maglia Mora. Quanto ha ragione Cusciela, il caldo è tra i grattacapi di quest'anno, vero Carappa? Bravo Santos, ma al caffè preferiamo il Mocha. Anche il prossimo campionato avrà una serie di ostacoli, questi sono salti augurali. Moro in porta diventerà lui stesso l'ostacolo. De Petrini ci mostra che a 36 anni si mette testa a partito e lo insegna a Nai. Ci rifiutiamo di credere che la Juventus andrà indietro. L'allenatore Carver è inglese, ma svedese è la ginnastica. Però l'estima raspa se la può scordare. Viola, asso di ritorno tra il campionario dei nuovi acquisti. Mari, ex atalantico, Romani, romano d'esportazione, ma la tu vero è Martino. che spinge il suo virtuosismo fino a centrare la mano.